zio hack del 1998 lo spacciatore di trucchi e segreti di miglioramento personale underground che gli esperti frequentano di nascosto dalle loro mamme allora vediamo insieme tre più tre ma ve ne cito quanti ne volete di biohacks che sono fuffa fuffa e poi vediamo un altro aspetto importante che sotto l'un per cento della del cambio di performance a meno che non siete un professionista atleta o di alto livello non servono a un cazzo questi macchinari queste cose costose allora ciao a tutti sono zio hack dal 1998 mi occupo di divulgazione e sono stato il primo a parlare di biohacking in un corso commerciale in italia ma anche prima perché seguendo il mercato americano tutti questi vari famosi podcaster ho provato un po di tutto ho buttato via letteralmente i soldi di una berlina ogni anno in minchiate ecco perché per me è un argomento è un argomento caldo parla del biohacking ecco per fortuna oggi esiste un biohacking scientificamente basato quindi basato su quantomeno ricerche pubblicate non è che le ricerche scientifiche danno dei numeri non dà che danno proprio delle indicazioni precise non sono prescrittive sono descrittive però ci sono delle cose che sono marcatamente delle delle assurdità cioè tipo ai tempi ci facevano comprare gli occhialini arancione ci sono degli interi cataloghi online tutti di macchinari fuffa cose che quando va bene funzionano sotto a quell'1% ci sono misura vedete quello che vi appare di solito nelle pubblicità su sui vari social no i misuratori di di chettoni per la bocca hanno modificato dei rilevatori per per i cosi non funzionano ecco l'idea di bere l'acqua gasata perché queste sono proposte sempre dai due più grandi divulgatori di fuffa che sono ve li devo dire in italiano scusate non voglio cause sono davidino il predatore di culi e beniamino che si fumi campi verdi se li conoscete dalla traduzione capite se non li conoscete buon per voi siete fortunati che uno diceva devi bere l'acqua di una certa marca poi addirittura perché con la co2 vari nel tuo corpo come se noi respirassimo dallo stomaco no e poi c'è tutto il coso non entriamo neanche non è neanche bioechi in quello delle cose esoteriche assurde braccialetti i cristalli prodotti quantici e chi più ne ha ne metta insomma c'è veramente un settore del coso ma anche nei settori diciamo che avrebbero un po più di validità c'è una gran confusione ad esempio ancora oggi vengono tutti aminoacidi ramificati io mi ricordo quando avevo iniziato col bodybuilding cos'era forse 87 più o meno 88 e mi ricordo che il top in palestra non erano le proteine erano gli aminoacidi ramificati una nota marca che c'è ancora in italia che è utile in campo farmaceutico persone con determinati problemi di fegato eccetera non è che è cosa ma le ricerche dicono che se ti mangi le proteine hai le stesse sostanze anche meglio ovviamente parliamo sempre di quando parliamo di integratori supplementi e cose di qualità poi c'è il discorso ecco questo è un discorso che andrebbe discusso per un bel po il discorso dei chetoni del lampone ecco ad esempio i chetoni del lampone non sono i chetoni che vendono altre aziende ma anche quelli che vendono altre aziende non servono per dimagrire come tutti anzi casomai vi aggiungono calorie alla vostra dieta quindi casomai se volete dimagrire dovete togliere hanno degli effetti interessanti ma in altri in altre cose se vi interessa ne ho parlato cercate il mio canale telegram zio h quattro ettere la h di hotel tutto attaccato e lì se ne può parlare insomma fate la domanda e cose e invece un'altra cosa che poi questi prodotti no per dare energia usano il vecchio trucco del una sostanza che funziona benissimo ma bisogna stare attenti la caffeina la caffeina il trucco di tutti gli energy drink di tutte queste cose però ad esempio nel corso di questo mese in hna la mia università del miglioramento personale e se vi interessa lo sponsor anche di questi di questi audio gratuiti e sotto lo trovate nel link andate a vedere che cos'è è proprio questo mese nel settembre 2021 ci occupiamo di biohacking dal punto di vista però di cose scientificamente basate e divulgate dal professore andrew huberman del suo huberman lab peraltro il podcast è gratuito se sapete l'inglese ascoltatevi lui che è meglio di me ho già parlato li trovate in questo canale digitale poi della confusione tremenda tra intermittent fasting e time restricted feeding andatevelo a sentire cosa cosa vi debbo dire è un settore in cui sulla fuffa potremmo parlare per ore ma non è meglio dedicarci a quello che invece funziona e qui l'ultima nota che vi ho citato all'inizio ecco di il discorso che attenzione che molte cose si sono basate su delle ricerche spesso poche magari una e attenzione a che non siano basate su ricerche in vitro sui topi come molti dei già divulgatori citati hanno fatto ecco ma quando una cosa non ha un effetto marcato al consumatore normale italiano e non professionista se è un professionista che investe in formazione cercatevi il link sotto se avete commesso c'è gente bravissima online anche su youtube ma molto pochi che parlano di queste cose con dovizia di dettagli anche in italiano scrivetevi al canale chiedetemi e ve li dico quelli che mi piacciono ecco perché poi cambia nel tempo quindi non mi va di cristallizzare in un mio canale digitale ecco diciamo che se uno è un professionista di alto livello un business che allora businessman che ha bisogno o woman che ha bisogno di un certo livello di cognizione allora ha un senso far certe cose se uno un atleta è già fatto il massimo che può fare attenzione che ad esempio con un priming un meta priming che pochissimi mental coach sanno fare bene si possono avere performance immensamente senza arrivare all'autoipnosi immensamente fatta bene scientificamente basata anche quella rarissima trovare si possono aumentare le performance molto di più di qualsiasi cosa di queste ma se uno già usa tutto e inclusi diciamocelo chiaro tanto nel mondo del professionismo in cui inclusi certi farmaci perché è normale quei livelli se no la genetica oramai non basta più nel mondo moderno allora a quel punto ci sono anche delle piccole cose di biohacking anche nuove ad esempio nei corsi questo mese ne cito una che stanno usando i militari e gli atleti professionisti che è nuovissima semplicissima a costo zero e nessuno nessuno la sa ancora in italia non l'ho vista citata da nessuna parte invece ho citato ho viste citate una marea di vaccate tremende comunque parliamone se sei un un esperto di queste cose nel tuo canale queste cose contattami ne vengo a parlare volentieri con la tua community e ci scambiamo le idee per il resto un grosso abbraccio tutti dello zio h ci sentiamo alla prossima e fate del vostro meglio ricordate evitate la fuffa e sotto l'un per cento per la persona normale non funziona poi fate i vostri esperimenti personali io non discuterò mai con quello che funziona per voi se per voi pregare il mago ronzo vi dà una grande performance ma pregate il mago ronzo ci mancherebbe siamo fuori dal principio di falsificabilità di popperi un grosso abbraccio alla prossima ciao adesso che hai sentito tutto non fare il fighetto seguimi non tanto perché porto bene a chi lo fa ma perché porto una sfiga tremenda a chi non mi segue troppo tardi adesso l'ha ascoltato